Sì, me l'aspettavo una partita tosta perché abbiamo giocato contro una squadra ben organizzata che nota benissimo. È importante che abbiamo vinto alla fine, era tosta all'inizio, poi come hai detto durante il terzo tempo siamo riusciti a scappare un po', ma si vede che siamo all'inizio della stagione e per me è più importante che cresciamo durante la stagione e che quando arrivano partite più importanti.